questo è un brutto colpo per me in questo 2023 perché era incredibile poter sbagliare un film con queste premesse e quali sono le premesse di cui parlo innanzitutto il lato tecnico gli ambienti questo po bellissimo con questa vegetazione incredibile la palude la nebbia spazi stretti scuri le cantine l'atmosfera l'ottimo comparto sonoro ma soprattutto i due attori che non sono mica ciccio e francesco ma solo alessandro borghi e luigi locascio che nel 2022 hanno fatto delle interpretazioni straordinarie sono degli attori con la maiuscola e anche il lato tecnico io continuo a ripeterlo è davvero convincente di questo michele vannucci che ha vinto è un esordiente quasi a sui 35 anni una cosa del genere ha vinto perché ha fatto due film lungometraggi il più grande sogno sempre con borghi protagonista nel 2016 vincendo miglior non è stato presentato nel festival di venezia 2016 sezione orizzonti quindi è uno che è stato apprezzato per essere nella selezione orizzonti vuol dire che deve essere bravo e si vede che è bravo è tutto al posto giusto poi però tu guardi il film c'è questo deja vu fin dall'inizio di ma sta andando tutta merda ma non capisco perché è il film te lo spiega perché va tutta merda perché la sceneggiatura è terrificante è orribile è banale semplificata derivativa inconcludente è tutto quello che non dovrebbe essere una storia di questo tipo e dopo ne parlo bene nel dettaglio anche con una parte spoiler e soprattutto il regista è stato più interessato a far vedere il suo talento con le inquadrature che a gestire il film per intero sembra quasi che lui abbia detto vabbè io devo far vedere che sono bravo con la telecamera poi vabbè gli attori se la cavano da soli la sceneggiatura ha scritto un altro magari dai in qualche modo ce la caviamo e mi farò notare ecco no delta è uno dei più grossi fallimenti secondo me di di quest'anno italiani e che non raggiunge il punto tu lo capisci che è difettoso alla base salve sono arcalino e benvenuti iscrivetevi al canale perché il mio obiettivo è mille iscritti in questo 2023 e non manca tantissimo porto i film più caldi della settimana al cinema e anche sulle piattaforme quindi vedete guardate le mie playlist tratto anche film antichi brutti e vetusti capolavori della storia del cinema con le mie autopsie dei film analisi scena per scena anche anime ho un sacco di playlist andate a vedere vi ho messo le schede dei link in questa stessa recensione cominciamo perché sarà abbastanza lungo se volete stare fino alla fine mi farà piacere no spoiler qual è il problema della narrazione che intanto diciamo la tema di base dai abbiamo che c'è una lotta fra due fazioni sul delta del po leggo wiki si affrontano osso ambientalista che vuole difendere il suo territorio dalla pesca indiscriminata e il bracconiere elia che vive con la famiglia florian originaria della romania per cui c'è uno scontro per il pesce e abbiamo da una parte lo cascio che osso che vive con la sorella e con gli altri pescatori della della zona e poi c'è questo italiano che però si è fatto adottare in età molto adulta dalla famiglia florian come dice qua e quindi loro questa famiglia florian che cosa fa pesca di notte per non per non farsi vedere perché sono bracconieri e però qualcuno si accorgeva di loro e qua c'è lo scontro si vede già ecco il problema già parte dal trailer può troppo spoilerante secondo me è vero il tema era delicato complicato quindi attiri mettendo un po di ciccia nel trailer però forse magari il fatto che lo posso dire qui sì il nostro borghi che è quello che sta da parte dei contabbandieri arrivi a essere accusato di omicidio non si sa di chi di come e perché non lo dirò venga poi inseguito braccato dalle forze dell'ordine e non solo se lo potevano evitare perché il corpo di scena non arriva ma lasciamo perdere il problema della narrazione che vuole usare troppo come film troppo ambiziosi mal scritti vogliono trattare diverse tematiche quale ecologismo cosa significa essere italiani cosa significa stare in una piccola cittadina con dei valori ben specifici cosa significa lottare per il proprio territorio cosa significa la pace e la giustizia ma anche cosa significa fare la rivoluzione e cosa significa cercare un posto nel mondo qual è il ruolo della violenza della vendetta eccetera voi capirete che ho detto 7 8 temi diversi il film li vuole trattare tutti senza approfondirne mezzo un quarto d'ora il tema principale è uno a caso che ho detto prima poi sparisce e ne arriva un altro tu dici ok poi dopo un quarto d'ora un altro e i primi due non vengono più zattati per essere ripresi magari sul finale dici ma scusa ma l'ora e mezza passata prima è un po così il film si perde completamente e per giustificare questi cambi di toni molto repentini che che cozzano devi creare i crateri di sceneggiatura perché se abbiamo due fazioni no quella di locascio e quella di borghi c'è un collegamento narrativo che è il più grande problema del film che è un personaggio femminile che farà da ponte fra questi due mondi che però si comporta in maniera talmente assurda che tu ti chiedi per tutto il film perché fa certe cose è l'unica spiegazione logica perché il film non da un grosso background dei personaggi ora ci arriviamo è perché serva alla sceneggiatura nel momento in cui tu spettatore capisci che un elemento di una sceneggiatura è messo lì apposta per mandare avanti la trama vuol dire che è scritta col buco del culo è quello perché una sceneggiatura fluida ti fa passare tutti i passaggi di tema più importanti come se fosse acqua fresca quelle scritte male ti sembrano forzate e ti fa le domande quante domande ti fa in questo film quindi è disastroso da questo punto di vista ma se pensavate che la prima parte fosse brutta la seconda è ancora peggio perché dovrebbe essere più semplice la storia ma in realtà è più complicata perché mette in mezzo altre tematiche che avrebbero avuto dovuto avere approfondimento maggiore magari per un film intero non per gli ultimi 40 minuti il film si accende nella seconda parte finalmente dice ah il film qua parte c'è la scintilla e la scintilla però ti brucia la faccia non è piacevole il dramma e qua cadiamo e chiudo la parte spoiler su un fatto tu hai borghi e lo cascio in ruoli abbastanza codificati borghi quello incazzato quello schivo quello che non parla e lo cascio il bravo ragazzo quello dei grandi valori tipo i cento passi ecco la faccia da rivoluzionario che però sa quello che sta facendo ai due grandi attori e questi risultano ridicoli con un dramma forzato con troppi dialoghi ci sono momenti in cui lo cascio e borghi per sceneggiatura credo devono urlare in mezzo alla foresta in mezzo alle stanze come se fossero che ne so l'ultimo bacio di muccino il fallimento è palese evidente e i risultati sono catastrofici catastrofici se ti fai più di una domanda e il peggio viene che tu pensi il film per è bello da vedere altro fatto il sonoro non tanto le musiche non non il comparto musicale buono ma il sonoro perché parlano in modo dialettale in modo neorealista e si sente male sente male talvolta perché ci sono i rumori di fondo più alti rispetto ai loro dialoghi e quindi non si capisce soprattutto nelle scene affollate ok e poi c'è anche un problema di luce talvolta perché in certi posti non si vede proprio niente ho capito l'intento espressionista ma un certo momento mi devi far vedere quello che succede se è una scena importante con un dialogo quindi ha diversi problemi anche tecnici però sto vannucci che il secondo film che fa io lo voglio seguire perché bravo recupererò l'opera prima sono curioso se perché anche lui ha scritto la sceneggiatura insieme a cinque persone ma che cazzo è quattro massimo gaudiogo fabio natale anita otto michele vannucci è madonna quattro insieme fate sta merda complimenti quindi io ve lo consiglio vi dico di no guardatelo perché magari vi fate delle riflessioni sul cinema italiano però vi dico seguite sto vannucci nei prossimi film ma non in questo se siete legati alle belle interpretazioni attoriali di lo cascio e borghi non andate perché rimarrete molto molto delusi e come lo sono io il film io ci credevo che potesse essere un bel film non dico il migliore dell'anno però un bel film e invece no invece no parte spoiler andiamo a parlare di questa parte spoiler con molto dispiacere ripeto davvero una delusione innanzitutto un tema che viene trattato che fosse la cosa più importante il perché litigano le due fazioni ho capito il mcguffine che lo cascio dice sono le fabbriche che avvelenano i nostri tonni ok un mcguffine ci sta ci sta uno pensa che siano le fabbriche e in realtà non c'entra un cazzo le fabbriche va bene ok può andar bene ma già la vediamo che c'è un problema perché il film poi va da un tema all'altro a caso vabbè il film però omette completamente un punto che sarebbe stato forse la parte più interessante perché alla fine loro litigano perché il la prima vittima il ricco fra virgolette che poi era credo il fidanzato della bionda non si capisce credo ci stava insieme con la bionda ok l'ex di lo cascio ok il tipo viene ammazzato e quindi il problema viene risolto però lì c'è la gabola mi spiego il ricco cosa faceva benché ospitasse i pescatori faceva prendere il pesce in modo illegale dai contabandieri per comprarselo lui a cifre più basse probabilmente non viene spiegato questa cosa quindi il vero ville in realtà sarebbe stato un punto interessante dell'opera era questo tale questo tale di cui non ricordo il nome e invece ammazzandolo tu vanifichi e completamente il fatto che magari questi si potevano parlare dire ma perché scusa tu rubavi il pesce a chi lo vendevi eccetera no invece il lo spunto già inizialmente viene disintegrato con la morte di lui perché si capisce che borghi è uno pazzo perché pazzo qui a me dispiace ma dobbiamo andare su un altro problema narrativo loro vogliono che ci sia questo contrasto fra la giustizia e la vendetta e la violenza con due personaggi quello di borghi che è il disadattato il violento e quello di lo cascio sulla carta avrebbero voluto farci tifare per entrambi ok però è squilibratissimo lo scontro e non c'è contrasto morale in che senso perché lo cascio in effetti ha un percorso emotivo di cui parlerò dopo per cui lui è sempre un uomo di giustizia che però sul finale ovviamente si vuole vendicare e va bene va benissimo cosa succede con borghi che il problema di questo film e incide sulla sua prestazione perché è scritto col buco del culo il suo personaggio borghi nonostante abbia la faccia che ci dovrebbe fare empatizzare lui è molto bravo lui non ha un pregio nulla perché riflettiamo su quello che fa borghi in questo film scusate è uno che uccide è uno che scappa è uno che ruba è uno che non può essere difeso dallo spettatore dalla narrazione non è difeso e lo cascio che vuole essere far passato per un ambiguo non è ambiguo lo cascio si fa vendetta da solo si fa vendetta da solo sì ma è uno che è completamente giustificato non c'è l'ambiguità morale perché borghi è un coglione in questo film e lo cascio lo diventa alla fine perché le forzature di itama sono anche il fatto che non dico un a caso la prima che mi viene in mente tu hai imprigionato legato borghi dopo che lui è scappato dalla polizia e poi ti fai rubare il fucile ecco questo le tipi cose mi fanno imbestellire perché uno lo capisce che la trama deve andare avanti da sola e dici come facciamo a creare la scenuna finale sulla barca nel momento in cui borghi minaccia lo cascio con il fucile arriva l'aereo loro si nascondono e poi c'è la lotta no un momento prima però borghi dà le spalle al nemico e lì lo cascio poteva sorprenderlo tranquillamente poteva colpirgli la gamba che va già ferito cioè si iniziano a concatenare queste coincidenze terrificanti ok ma detto questo lo cascio sbaglia anche nella recitazione ma non perché non sa per recitare ma perché la sceneggiatura è sbagliata per esempio un momento mi viene in mente questo poi ci colleghiamo con la bionda che è un personaggio terrificante ma non per l'attrice per carità l'ex moglie di lo cascio nel film ma è proprio è un personaggio che rovina il film ok va bene la seconda volta quando la bionda torna dopo che è stata rapita si è fatta la pietra da borghi ma poi tornando indietro al funerale essenzialmente della della sorella di lo cascio lo cascio lì per quello che il film ci stava dicendo con la sua reazione doveva prenderla a calcio e pugni a schiaffi per la re anche per la reazione che ha dopo invece è relativamente pacato quindi questo ci dice che anche lo stesso attore non ha chiaro quello che deve fare poi lo cascio a un monologo quando imprigiona borghi che da teatro non c'entra un cazzo la non si deve parlare si deve picchiare minacciare sparare come per esempio in prisoners con gli jackman ecco quello è il riferimento la metti la tensione quindi qua lo cascio completamente da fuori borghi fa il pazzo perché fa il pazzo si dice una frase a metà il film alla bionda che il collegamento fra i due volendo ma che è un pessimo collegamento come detto è perché io vivo da solo poi incontrato questi è come una famiglia per me va bene perfetto e poi che c'è niente poi non c'è niente borghi che urla in mezzo alla foresta da solo non è modo di scrivere un personaggio questo gli altri protagonisti no secondari anzi sono interessanti ma spariscono c'è il conflitto fra la giustizia e la vendetta con la sorella di lo cascio ma anche qui anche qui è un po di da scalico perché lo cascio davvero pare il santone del paese tu vedi certe cose e non ha un minimo di iniziativa è interessante il monologo sul fatto quando la schiaffeggia dice che cosa vuoi fare bruciare le case delle delle persone sì allora se il film voleva trattare quel tema giustizia contro la vendetta devi darci più spazio la morte della sorella l'ho trovata di un melodrammatico da far schifo proprio per far dire allo spettatore adesso lo cascio si incazza qua è lo cascio si sarebbe potuto incazzare lo stesso considerato che hanno ammazzato una persona del suo paese quindi non c'era bisogno di mettere quella morte che assolutamente anche di da scalica assolutamente da momento lo sappiamo tutti che succederà e succede chiudo sulla bionda a livello di narrativa poi dico altre cose in generale la bionda non ha senza quello che fa per tutto il film non si vede neanche come va a finire prima anche monco ok perché lei fa tutto quello scappa dal suo paese perché non sta bene lì d'accordo va bene una che reprime sta con il più più potente del della zona è una tipa tosta egoista ok la tipica personaggio ambiguo di un film di questo tipo va benissimo l'attrice all'inizio sembra anche brava il problema è che lei fa di tutto per seguire uno che è inseguito dalla polizia perché non vuole stare lì inizialmente mi sta bene che siccome si ricorda che da ragazzina c'era questo bonazzo che l'ha presa in giro lei vada a casa sua così per parlarci perché si sente sola va bene ma nel momento in cui io mi dico ma perché lo avverte che gli altri lo stanno cercando perché ha questo atteggiamento morboso verso borghi visto che la narrazione non ci mostra un crescendo del loro rapporto perché lo difende davanti al fatto che borghi ha ucciso davanti a lei quel tale il suo ex la sua ex fiamma quello che teneva il locale lì il bar odiava quel quella persona con cui stava a tal punto da coprire un criminale che ha conosciuto cinque ore prima un giorno prima se è così me lo devi far vedere e non succede domanda successiva perché sapendo che la polizia sta cercando borghi decide di seguirlo compromettendosi diventando complice di un assassino finendo rischiando di finire in prigione perché lo segue anche dopo che ha ucciso una seconda persona perché la bionda che il legame con tutto cioè alla fine è la bionda che fa succedere tutte le cose del film ci siamo su questo perché sta bionda è ossessionata da borghi qualcuno me lo spiega la risposta è una sola se no al film non va avanti e qua che arriviamo alla caduta anche perché hanno avuto sta brillante idea gli sceneggiatori ma guarda che l'ex di locascio contrasto morale di sta minchia perché se è un personaggio veramente inutile non funziona non funziona niente su schermo non funziona un cazzo e a me dispiace perché il film insoduce dei temi importanti che poi non manda avanti quindi è un peccato è un peccato su tutta la linea perché sceneggiatura è è fatta male poco interessante divagativa didascalica non riesce a accentuare mai il punto anche sul finale la scenona dove locascio uccide borghi non ci dà soddisfazione non c'è un bel dialogo borghi dice noi dobbiamo lottare contro noi stessi così no non è colpa mia dice però locascio non risponde non dice sì cazzo è colpa tua invece perché hai ucciso mia sorella perché tu avessi dovuto fare questo quest'altro non c'è un bel dialogo di cinque minuti dove c'è uno sconto dialettico su questo tema no ognuno c'è il suo piccolo non lo so monologhino così da baci perugina dove dicono la frase effetto è finito lì no inaccettabile questo è quello che pensavo del film e mi dispiace tantissimo voi l'avete visto scrivetemi qua sotto e se vi è piaciuto spiegatemi perché ciao ciao